Perfetto ragazzi, eccoci qua per un'altra presentazione e vediamo allora un altro motore. A differenza degli altri, questi qua, intanto sono motori più potenti, che sono circa sui 50, 60, questo qua è 60 watt mi pare. Vediamo appunto dei motori di velocità, questo qua è un tipico motore di velocità e poi chiaramente ce ne accorgiamo quando lo accendiamo, ok? Allora, a differenza degli altri motori, i motori di velocità hanno sul rotore, cioè appunto il rotore che gira, il perno centrale appunto del motore, ok? Degli avvolgimenti più lunghi, allora, o meglio, hanno più avvolgimenti e sono anche più lunghi, per cui di conseguenza girano molto più veloce rispetto agli altri motori. Se il motore lento invece ha pochi avvolgimenti e di conseguenza gira più lentamente, anche se la tensione è la stessa, capito? Prende invece più corrente, in poche parole, allora gli avvolgimenti sono più corti e la sezione del filo invece è più grande per gli avvolgimenti, si chiama, sì, per gli avvolgimenti, ciao, per i motori lenti e di conseguenza essendo la sezione più grande sarà attraversata da più corrente e il motore però tenderà a girare con più forza ma più lentamente. E invece, nei motori di velocità è l'esatto contrario, ok? Come appunto abbiamo già detto, bene, questa qua ha la sua ventola di raffreddamento che chiaramente produce aria verso l'indietro, ok? Verso l'indietro, che brutto termine, cioè, dietro del motore in poche parole, e queste qua sono chiaramente le prese d'aria, ok? I due carboncini, questo qui, lo vediamo subito, è ancora uno tra i non più recenti motori, ok? Ma neanche vecchissimo motore, però ancora con i carboncini esterni sostituibili, ok? Ecco, questi qua praticamente sono i cosiddetti carboncini o, semplicemente, come le conosciamo, spazzole. Per cui, sono carboncini che si possono svitare, sono due copperchietti a vite, li tiriamo via e dentro c'è il carboncino. Adesso non lo tolgo, perché poi tutte le volte bisogna trovare la posizione concava per quanto riguarda il rilascio, lo sfregamento contro il rotore, ok? Perfetto. Bene. Adesso però, accendiamolo. Questo qui era un motore di una specie di asciugatrice, se non sbaglio, qualcosa del genere, ok? Ok, sì, mi pare 60 Watt o qualcosa di più, no, mi pare 60, e adesso possiamo sentire il rumore molto più sostenuto e soprattutto il numero di giri in RPM molto più elevato, ok? Rispetto agli altri e, di conseguenza, la potenza è maggiore, ok? Sì, adesso però se sta accadendo. Ok, ecco, come ci accorgiamo immediatamente, questi motori sono estremamente più rumorosi rispetto agli altri, dopo un po' danno anche fastidio, ok? E si sente anche dal rumore, che può essere confuso, è un motore di un aspirapolvere, ma in questo caso non lo è, ok? Ok, qui vabbè, poi era stato verniciato, eccetera, eccetera, era per un altro progetto. Per cosa sono comodi questi motori qui, ok? Allora, molto utili, comunque si prestano per esempio, diciamo, non so, dei progetti come una levigatrice. Sfruttando l'alto numero di giri del nostro motore potremmo farci una levigatrice, per cui mettiamo il piatto con poi il perno centrale, ok? Automaticamente poi possiamo levigare quel che vogliamo, ok? Bene, o se no una piccola circolare, va benissimo anche quello, motore da 60 watt, oh beh, si usa motori anche molto più deboli, il tipico motorino, ok? Da 2 ampere, va benissimo anche quello, ok? Ma adesso stiamo analizzando questo, per cui va benissimo. Per cui, anche una circolare, sono motori comodi, ok? Ecco, l'unico problema, come abbiamo sentito, è che sono un po' rumorosi, dopo un po' rompe le balle. Ok, bene, perfetto. E ci vediamo allora, nella prossima puntata, con un altro, uno, scusamo, un altro amico motore, ok? Perfetto.